Domani Bari sarà blindata in occasione della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per esigenze di sicurezza sono state previste molte limitazioni al traffico e alla sosta. In alcune strade del centro cittadino sarà impossibile transitare e parcheggiare. Le misure restrittive sono state decise dal Comune di Bari in occasione dell'arrivo in città del Presidente della Repubblica che aprirà i lavori del 32esimo Congresso Nazionale dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati dedicato al tema giustizia, economia, tutela dei diritti e il ruolo del giudice nella società che cambia. Deviazioni invece sono state previste al percorso di alcune linee urbane numero 2, 10, 14, 2, 35, 4 e navetta C a partire dalle 9 del mattino fino alle 13. Le restrizioni al traffico invece entreranno in vigore dalla mezzanotte e varranno fino al termine della manifestazione come il divieto di transito che invece entrerà in vigore dalle 7 del mattino. Previste restrizioni anche per giornalisti, fotografi e cameraman. Solo coloro che avranno un regolare pass rilasciato dalla Prefettura di Bari, 150 le accreditati, potranno accedere alle aree esterne transennate in alcune zone del Teatro Petruzzelli che ospiterà il convegno.